Salve a tutti ragazzi, eccoci qua in questo nuovo video. Allora, oggi, siccome mancano, diciamo, una decina di giorni all'inizio dei mondiali, di agosto del 2018, sono qua per farvi un piccolo pronostico su chi, ovviamente, secondo me, e lo ripeto, secondo me, vincerà questo mondiale. E, secondo me, lo vincerà la Francia. Perché? Perché, innanzitutto, ha un'ottima rosa, ha un ottimo allenatore, ha dei campioni che, quando vogliono, ti inventano il tiro dell'anno e, tra l'altro, sotto l'incluso dei pali, ti ritrovano partite anche inizialmente difficili. E poi ha anche parecchia fortuna, perché si è visto anche contro di noi venerdì che la Francia ha avuto parecchia fortuna nel secondo tempo, quando l'Italia, secondo me, metteva il pareggio. E la Francia ha avuto fortuna, e la fortuna aiuta, la fortuna aiuta. Infatti, la Francia, comunque, è arrivata in finale dell'Europeo e vorrebbe riscatrati quest'anno, vincendo questo mondiale. C'è anche la Germania, che comunque, anche se è forte, ma, ma, siccome, devo dire, che una scuola comincia il mondiale, o non è, mi pronuncia che comincerà la Francia. Mi piacerebbe dire molto l'Italia, ma so che l'Italia sicuramente non lo sarà, perché l'Italia è la banca di partecipare al mondiale del prossimo 18. Quindi, non sarà sicuramente l'Italia. Detto questo, per questo video vi chiedo un bel mi piace per supportarmi. Quindi, commentate, condividete, iscrivetevi al canale, grazie per essere 304 iscritti. Ieri vi ho fatto un video divertente, vi raccomando, guardatelo, anche quello, commentatelo, lasciateci like. Fate iscrivere anche i vostri amici, seguitemi anche su Instagram, mi chiamo Francia Nofrica. E andate anche su canale di Franci Longo, e guardate il video in cui mi fa lo scarsa telefonico, vi lascio anche il link in descrizione. Io vado ora con niente, ciao ragazzi.